E' che un politico che non sa che fare, quando vede una cosa complicatissima come la guerra, anziché mettersi a discutere e di ragionare di gioco politica, di energia, di immigrazione, di come funziona l'Europa, di che tipo di radici culturali ha questo conflitto, perché abbiamo presupposto oggettivo, cioè che c'era un professore, Putin, e c'era un venito europeo, punto. Il resto sono due discorsi. Non fa la fatica di fare questo ragionamento, ma si fa come dire, e io ora che c'è la guerra di face, trovo una scusione fra un tweet. Di fronte alla complessità della guerra, non devi puntare like, perché nella guerra non c'è like che attenga. La guerra è per definizione il contrario del like. E' quello che prende ma in Polonia. Dici ma Puberino, andiamo a dare una mano. Ma non è questo il tuo compito. Non è il tempo di fare gli show. Dove vai e trovi uno che ti fa lo show più bello del tuo. Perché poi è così il meccanismo.